Rasta ancora un mistero che fine abbiano fatto i due fidanzati nigeriani che hanno raccontato di essere stati vittime di un gruppo di connazionali. Lei stuprata e lui pestato all'interno di un appartamento di Monterchia. L'uomo sarebbero stati inoltre rasati a zero i capelli per spregio. La coppia era attesa per questa mattina di fronte al jeep Giampiero Borraccia, ma le ricerche dei due, una 23enne o 27enne residenti rispettivamente a Ferrari e l'Aquila, su tutto il territorio nazionale sono andate a vuoto ed è stato così rinviato l'incidente probatorio con il quale la loro testimonianza sarebbe stata acquisita come prova. Un quadro indiziario abbastanza nebuloso, era fondamentale sentire anche le persone offese, anzi diciamo di fondamentale importanza e non si sono rese reperibili più che altro. Quindi proseguiranno le ricerche? Proseguiranno le ricerche e ci sarà un rinvio a breve per l'incidente probatorio e quindi per assumere le varie testimonianze. Non sono ancora chiari i motivi della sparizione della coppia di fidanzati. I due erano arrivati ad Arezzo il 6 ottobre scorso, avevano conosciuto nei pressi della stazione di Arezzo i sei connazionali che gli avevano offerto ospitalità per la notte. Quindi prima il sequestro nell'appartamento di Monterchi, poi il pestaggio a mani nude con un bastone ed infine l'abuso sotto minaccia di un coltello. Erano stati due la mattina successiva a denunciare l'episodio in questura. La squadra mobile di Arezzo che sta indagando ha identificato quattro dei sei presunti aggressori. Uno è stato denunciato per violenza sessuale e gli altri tre per lesioni e sequestro di persona. Indagati negano ogni tipo di violenza carnale.